Ultimo appuntamento con l'informazione di Florence Multimedia sulla viabilità in Toscana, una cordiale buonasera da Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove si segnala la chiusura parziale delle corsie tra Firenze Sud e Firenze Scandicci a causa di un veicolo fermo in avaria. In A11 invece incidente tra Alto Pasce e Chesinussanese in direzione Firenze che coinvolge mezzi pesanti. Sulla statale Trebis e Tiberina per lavori scambio di carreggiate e chiusura dello svincolo di Pieve Santo Stefano Sud in direzione Orte. Uno sguardo alla viabilità della città di Firenze e possibili disagi in piazza Savonarola a causa di un incidente. Chiudiamo con i cantieri di Firenze in via Cavour domani, sabato 5 dicembre e domenica 6 dicembre in vigore di vieti di transito tra via Micheli e via della Dogana a causa di lavori di manutenzione e per oggi è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie per aver guardatoca! Grazie per aver guardato il video! Grazie a tutti!